Adoro Te, fonte della vita, i miei calzari leverò su questo santo suono, alla presenza Tua mi prosperò. Shalom carissime amiche e amici di Abitare le scritture e di Misericordia a televisione. Siamo arrivati alla terza domenica di Quaresima e dopo la pagina delle tentazioni e domenica scorsa la pagina meravigliosa della trasfigurazione che ci ha detto l'identità di Gesù, in questa terza domenica l'accento è posto sulla responsabilità di accogliere questa identità di Gesù e di come rispondere. Nel cammino verso la Pasqua l'itinerario della parola riserva oggi per noi il grande tema della metanoia, della conversione, che è un dono gratuito. Sì, è l'amore di Dio a portare il cambiamento di mentalità. È Dio che ci offre il Kairos, questo tempo di grazia, come dice la liturgia, perché ogni uomo, ogni donna possa aprirsi alla comunione. Il contesto del testo di oggi, siamo in Luca 13, i versetti da 1 a 5 e da 6 a 9, sono interessanti perché siamo lungo il viaggio che è iniziato in 951 e Gesù riserva questo tempo alla formazione dei discepoli. Gesù ha appena affermato di esercitarsi a comprendere i segni. Gesù invita i discepoli di ieri e noi oggi a valutare con saggezza ciò che è giusto vivere. Mentre sta parlando e sta facendo catechesi, arrivano delle notizie, due grosse notizie, tragiche anche, perché la prima notizia dice che praticamente il Pilato ha fatto trucidare delle persone, dei Galilei, forse erano degli zelotti, mentre stavano offrendo i sacrifici nel Tec. E il sangue di queste persone viene mescolato con il sangue dei sacrifici. È veramente un orrore terribile. Questo dramma poneva anche un problema duplice, perché secondo la mentalità religiosa del tempo, da una parte in questo avvenimento le persone vedevano una sorta di segno del castigo di Dio. C'è sempre questa equazione peccato uguale castigo di Dio e quindi diventa un'occasione del giudizio sulle vittime. Ma, d'altra parte, questo episodio segnava anche un vero e proprio sacrilegio contro la sacralità del Tempio, che è il luogo più santo di Israele. I due avvenimenti sono da leggere a un livello profondo. Siamo proprio in termini di perdizione o di salvezza. Svelano la perdizione dalla quale ci salva soltanto la conversione al Signore. Si esclude certamente una lettura manichea, semplificata, quasi a dividere buoni e cattivi. Non è mai facile fare queste semplificazioni. Si propone invece di guardarsi nel profondo. Ecco la tematica della conversione. Ognuno di noi deve guardare nel profondo di se stesso, dove si scela anche il male. È così che cominciamo ad accogliere il dono della conversione. Si tratta di andare alla radice. Bisogna discernere qual è quel lievito che muove la nostra vita. Che cosa ci muove nella nostra vita? È quello dell'avversario che domina dentro di noi con la paura del bisogno, che ci porta all'avere, al potere, al piacere. O è quella del regno, la quale vale quella gratuità filiale, quel dono da accogliere in modo gratuito. Il male è un ingrediente costante della nostra vita e non è un problema, è il problema che razionalmente è inspiegabile. Gesù ci ricorda solo di perseverare nel bene. Il tentativo di difendersi dal male è il motore della storia umana. Tutta la nostra vita è una lotta da fare mai contro gli altri, ma contro se stesso. È una sfida, anche per la fede, perché può farla cadere o può farla rafforzare, negare oppure dare un supplemento di carità e di qualità alla nostra vita. Gesù, in un certo senso, da buon pedagogo, approfitta di queste due notizie per rivolgere prima di tutto una domanda. Quasi a far ripensare il discorso delle due notizie. Poi fa un invito molto forte alle persone. Perché egli legge queste due tragedie, la tragedia del sacrificio di queste povere persone trucidate nel Tempio e quella dei poveri operai morti sotto una torre che è crollata, rivolge una domanda molto forte che invita alla conversione. E dice così Gesù, voi ritenete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto queste cose? No, io dico a voi, ma se non vi convertite, voi perirete tutti allo stesso modo. Ecco l'affermazione molto forte. Che cosa fa Gesù con questa domanda? Gesù con questa domanda innanzitutto rifiuta di stabilire un nesso tra il peccato e la sofferenza. Anzi, ammonisce le persone, i suoi interlocutori, affinché si convertano. La conversione, il cambiamento di mentalità, pretende un nuovo orientamento, un cambiamento di mentalità, cominciare ad assumere i criteri di Dio e non la mondanità. Ma questo mutamento, che deve essere profondo, radicale, riguarda Dio. Non più considerato come colui che castiga i peccatori. Dio non può fare del male, assolutamente, è puro amore. La sua è la potenza, o anzi l'onnipotenza dell'amore. E senza la conversione si corre anche il rischio che l'uomo legga Dio con gli occhi negativi, quasi di un giustiziere, di un Dio che sta continuamente con un dito puntato. Non è il nostro Dio. La conversione, al contrario, ci fa scoprire la grandezza di un volto che è totalmente un volto d'amore. A Dio interessa portarci a casa. Per cui l'altro episodio, quello della torre, le famosi morti bianche, come le chiamiamo noi, quanta gente ancora oggi che muore sul lavoro, muore per un incidente. Sono 18 operai, 18 famiglie che soffrono per questo incidente alla torre di Sciloe. Sciloe, famosa perché indica il mandato, la si trova in Giovanni. È crollata mentre la stavano restaurando. E Gesù commenta, se non vi convertite, voi perirete tutti allo stesso modo. Quindi Gesù prende queste due notizie disastrose per fare davvero una sorta di grande invito alla conversione. Che vuol dire? Siamo tutti povera gente. Nessuno può pensare di accampare davanti a Dio dei meriti. Siamo tutti peccatori. Il figlio di Dio non vuole assolutamente spaventarci e né assolutamente vuole dirci che queste tragedie sono un castigo di Dio. Assolutamente. Questo era il discorso che faceva la famosa teoria della retribuzione. Gesù si distacca da questo tipo di teologia. E vuole insegnarci che ogni evento che succede chiede discernimento, una penetrazione profonda. Bisogna chiedere la sapienza, lo Spirito Santo per comprendere i fatti che anche oggi noi stiamo vivendo in questa tragedia terribile della guerra. Gli eventi negativi non vanno letti nel proprio cuore come un semplice fatto di cronaca. vanno inquadrati in quella che noi diciamo è la storia della salvezza. Quello che Dio porta avanti in modo impercettibile ogni giorno. Noi dobbiamo capire come quel sebe del regno sta crescendo. Perché Dio, aveva detto già il grande profeta Ezechielo al capitolo 18, Dio non vuole la morte del peccatore. A Dio sta a cuore che il peccatore si converta e viva. La conversione, cioè, chiede di vedere Dio non come un giudice implacabile. Egli è il liberatore, il goel, il salvatore del popolo. Ma c'è anche un'altra osservazione da fare, cari amiche e cari amici. Spesso vediamo il male in chi soffre la fame, la violenza, l'esclusione. In realtà il male è ciò che spinge ad affamare, a non condividere i beni, a chi esercita il potere e il dominio sugli altri, come stiamo vedendo in questi giorni, a chi esclude le persone dalla vita sociale, a chi distrugge la vita sociale, a chi distrugge la condivisione tra le persone e tra i popoli. Ecco perché Gesù, per far capire questo è il vero male, chi lo procura, chi veramente fa violenza, chi esercita potere sugli altri. E allora Gesù introduce questa piccola parabola del fico, un fico che è sterile, è appassito. Il padrone, che ha questo fico nella sua vigna, vigna, fico, ricordano molte cose, aspetta dei frutti, ma non ne trova e vuole farlo tagliare. È logico, una pianta che non porta frutto, sono tre anni che non ne ha portato, è anche sensato estirparla dal terreno perché lo infetta. Il padrone ha ragione, non possiamo dargli tolto. Ma qui interviene nella parabola un fatto straordinario. Perché? Perché è stravagante che a un certo punto il vignaiolo faccia l'avvocato difensore di questo fico. Addirittura si oppone alla proposta del padrone. Vuole che si attenda. Addirittura, voi sapete che il fico non ha bisogno di essere né innaffiato e né concivato e nemmeno zappettato vicino. Il fico è una pianta spontanea, poi in Palestina è spontanea. Ma come è spontaneo nelle nostre terre? Il fico non ha bisogno di concivi e di lavoro dell'uomo. Ma ecco la stravaganza, ecco quando la parabola esce fuori dall'ordinario. Perché l'appello del vignaiolo che cosa provoca? Un cambio di direzione nella trama. Non dimentichiamo che al termine del racconto però il vignaiolo e il padrone concordano se nel futuro questa pianta non porterà frutto bisognerà tagliarla. Il fico sarà tagliato. Ma il finale è aperto perché conservando il silenzio su quello che succederà dopo questo tempo supplementare effettivamente diventa un appello. Un appello ai destinatari di questa parabola e quindi a noi ancora oggi chiamati a prendere una decisione. E' questo il cuore della parabola. Più che un invito a contemplare la pazienza di Dio che ci dà sempre un tempo, questo tempo di grazia come la quaresima, noi dobbiamo guardare a un appello. E' un Dio che fa appello a fare presto e a fare bene. C'è ancora del tempo. Concede ancora un anno. Il vignaiolo ottiene almeno ancora un anno. Ma è un invito a fare presto, non è un tempo infinito. La conversione a quel Dio che non è colui che castiga, ma è colui che vuole dare misericordia, non dispensa l'uomo dalla responsabilità di decidersi e di farlo presto. Ecco perché questo anno concesso al figo ricorda poi quell'anno di grazia che abbiamo visto nella sinagoga di Nazare, questo tempo di grazia di cui parlava anche il profeta Isaia. E questo tempo di grazia il Signore lo dona anche a noi. E davanti a questo tempo, tempo di grazia, dobbiamo far presto, cioè con sollecitudine. Certo viene fuori dalla metafora del figo, qui viene fuori il vignaiolo, il figlio. Chi è questo vignaiolo? E' il figlio, è Gesù, quel figlio di Dio che abbiamo contemplato domenica scorsa. E' lui che intercede, è lui che vuole zappare intorno al figo e mettergli il concino. Forse farà frutto in futuro e se no sicuramente lo taglierai. Che bello, questa immagine che va oltre quello che è la logica umana. Il figlio di Dio è venuto per curare un figo che ormai è infruttuoso, è quasi morto. Che vuole dirci il testo? Che la misericordia guarisce e salva. Ma certo c'è un invito urgente. Dobbiamo fare attenzione che al termine della parabola padrone e vignaiolo, il padre e il figlio concordano e il figo non porterà frutto lo sarà tagliato. Che vuol dire? Che la pazienza di Dio offre sempre un tempo di grazia, però invita anche a fare con sollecitudine un'opera di cambiamento. Ecco la conversione. Vedete, l'appello di Gesù oggi è un insegnamento generale sulla pazienza di Dio, ma poi sull'annuncio dell'importanza decisiva di questo tempo. È un tempo di salvezza. Non è come Giovanni Battista che dice che la scure ormai è già alla radice, ma si corre il rischio del giudizio. Per San Luca il racconto è ancora attuale nella sua comunità ed è attuale per noi oggi. Questo tempo di grazia ci chiede di portare frutto. Come? Convertendoci alla misericordia, rivolgendo il nostro cuore verso i poveri, facendo davvero opere di solidarietà e di condivisione. Luca guarda veramente al mondo intero, no? È la missione della Chiesa. A chi è concesso questo anno di grazia? A tutti. Tutti siamo chiamati a cambiare mentalità perché vedete, cari amiche e cari amici, progredire è ricominciare ogni giorno. Certo, grazie al dono dell'amore di Dio. Dio non ci abbandona nel peccato, ma ci chiede la responsabilità di accogliere la sua mano per rialzarci e poi ci chiede di camminare alla luce della sua parola. La parabola oggi ci dà fiducia, nel senso che ci dice che il cambiamento è ancora possibile, ma noi non dobbiamo programmare la pazienza di Dio e nemmeno dobbiamo approfittarla. Il giudizio sarà tanto più severo quanto la conversione importante che ci offra una ultima opportunità. Non accoglierla significa volessi sottoporre al giudizio. Il tempo della misericordia si prolunga proprio per rendere possibile il cambiamento, non per rimandarlo. Ecco la buona notizia. Ecco perché la parabola è una pagina aperta, ma chi avrebbe dato a un fico sterile e infruttuoso ancora del tempo? Chi avrebbe potuto avere questa pazienza? Ebbene, solo il figlio di Dio, quel Gesù che è la nostra salvezza e il nostro fratello, ci concede una possibilità. Solo Lui sa dare a ciò che è morto la forza per potersi rialzare, ma ognuno di noi dovrebbe accogliere con prontezza ascoltando questa parola e portando frutto. Dobbiamo accogliere questo invito al cambiamento. E la domanda resta, ma questo figo porterà frutto? E possiamo proporla a ognuno di noi, ma io porterò frutto, accoglierò questo tempo di grazia? E in questo senso ancora una volta vedete, la pagina è aperta, c'è un Dio che attende da noi una risposta. Il mondo va costruito, la pace va costruita, la solidarietà va costruita. Ecco perché il Signore già da Genesi ci ha chiesto di fare insieme questo progresso nella umanizzazione. Sì, perché umani non si nasce, umani si diventa. E allora facciamo nostro questo bellissimo Salmo 102 Veredici il Signore mia vita non scordarne le grazie e i favori egli da sempre senza misura. Shalom. Adoro Te Fonte della vita I miei calzari leverò su questo santo suono alla presenza a tutti i